Seconda giornata del Forum Mondiale sull'Infanzia a Napoli si chiuderà giovedì. Oggi firmato un importante protocollo per i bambini disagiati che vede la curia in prima linea. Letizia Caffiero. La Chiesa di Napoli e la Fondazione Mentoring USA Italia Onlus insieme per realizzare e condividere progetti a sostegno dei minori e degli adolescenti di Napoli e della Campania. Il metodo Mentoring funziona. Da 15 anni attivo in Italia e ha permesso di reinserire nella società oltre 10.000 ragazzi. Ora arriva a Napoli grazie a un protocollo d'intesa siglato stamattina tra Matilda, Raffa Cuomo, Sergio Cuomo e il cardinale Crescanzio Sepe. Tre gli obiettivi, bambini a rischio, la dispersione scolastica e il reinserimento sociale dei giovani. È una cosa come un sogno, un sogno. Solo perché ho la guida del cardinale Sepe. E se non c'era il cardinale Crescanzio Sepe non si fa qua. Nasce un nuovo percorso per la comunità napoletana ma per tutta la regione. Un accordo che trova, sottolinea, conferma ufficialmente la sintonia che c'è per tutti quegli interventi che devono necessariamente essere fatti sul territorio. Utilizzare il metodo one to one di Matilda, Raffa Cuomo, significa però anche investire nella formazione dei volontari. Alle volte non basta la buona volontà di chi vorrebbe mettere a disposizione se stesso, ma devono essere preparati, devono essere preparati, diciamo, un po' più professionalmente in modo da svolgere un'opera veramente efficace. Intanto alla stazione marittima di Napoli proseguono i lavori del Forum Internazionale per il Benessere del Bambino, dove arriva il video messaggio del ministro degli Esteri Giulio Terzi, che ammonisce violazione dei diritti dei bambini all'educazione, a non subire discriminazioni, alla salute, all'assistenza. È assurdo che accadano ancora cose del genere nel ventunesimo secolo. Poi Terzi annuncia il prossimo 29 e 30 novembre alla Farnesina conferenza contro la violenza sessuale sui bambini.